Conoscendomi a chi posso assomigliare? Non lo so Vediamo Allora Vediamo se ti conosci Io mi reggo forte perché è un quiz troppo difficile Scegli un emoji delle tartarughe ninja A parte che non c'è Raffaello già mi fa incazzare Però conoscendomi la La prima Bravissimo Mi reggo forte perché cavolo stai a scena Sabri Gamer Che quiz Io mangio un piatto di pasta Siamo pronti? Successivo? Leonardo e Carli No, piano